Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di meditazione, o meglio vi racconto qual è la meditazione che faccio io, come si è sviluppata questa pratica nel tempo, perché adesso è diventata per me un appuntamento quotidiano, e quali strumenti uso per meditare. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Tempo fa ho registrato un video nel quale vi parlo di questo libro, Metodo Mindfulness, 56 giorni alla felicità. Vi lascio il link qui e nell'info box se volete recuperarlo, perché in questo video parlo di come ho iniziato a meditare, ed ho appunto utilizzato questo libro, che ha un programma di otto settimane, comprensivo non solo della parte teorica, ma anche delle meditazioni guidate, che potevo scaricare dal sito della Mondadori. Quindi questo è per quanto riguarda l'inizio, e adesso vi racconto come è andata avanti. Una volta terminato il percorso del libro, ho iniziato a meditare autonomamente, però inizialmente utilizzavo sempre delle meditazioni guidate, quindi meditazioni nelle quali c'è una voce guida, che ricorda che cosa fare, dove concentrare la propria mente, e in generale aiuta a mantenere soprattutto la concentrazione quando la mente tende ad andarsene un po' per conto suo. In particolare ho anche sperimentato le visualizzazioni, quindi quando si immagina sempre con l'aiuto di una voce guida di trovarsi in un determinato posto, di provare delle determinate sensazioni, e questo mi aiutava anche a superare dei piccoli momenti di difficoltà, delle piccole paure interiori, dei piccoli pesi che sentivo sul petto. Ecco, questo tipo di meditazione mi aiutava un po' a risollevarmi, a stare un po' meglio. Quando mi sono sentita più sicura ho iniziato a meditare in maniera autonoma, quindi senza una voce guida, impostando un timer per un determinato periodo di tempo, anche questo variabile in base alle mie esigenze e al mio tempo, però insomma senza nessuno che mi guidasse. In particolare studiando mindfulness e soprattutto leggendo il libro Tu l'universo e il denaro, veniva ripetuto spesso che una delle tecniche migliori per ottenere nella propria vita ciò che si desidera è quello di concentrarsi per alcuni minuti al giorno su quelli che sono i nostri desideri. Ma non è così semplice, non basta chiudere gli occhi e fare un elenco di quello che vorremmo avere, degli obiettivi che vorremmo raggiungere, di sensazioni che vorremmo provare. Si tratta di immaginare quelle situazioni nel dettaglio, proprio come se le stessimo vivendo in questo momento. In questo modo al nostro interno sentiremo svilupparsi delle sensazioni, quelle sensazioni di gioia, di felicità, comunque quelle sensazioni positive che proveremmo veramente se quella cosa stesse accadendo in quell'esatto istante. Ecco che in questo modo si smuovono dentro di noi delle emozioni positive, la nostra mente rimane focalizzata su quelle emozioni e i nostri gesti nella vita quotidiana ci porteranno più velocemente e in maniera più diretta al raggiungimento di quegli obiettivi. Il discorso ovviamente sarebbe molto ampio, comunque questo è a grandi linee quello che viene spiegato nel libro che ho letto e che ho poi riportato nella mia pratica. Quindi di solito per la prima parte della pratica mi concentro sul respiro per eliminare tutto quello che c'è intorno a me e per questo mi ha aiutato molto chiaramente il percorso che ho fatto all'inizio con il libro che vi ho mostrato prima. Poi successivamente dedico una parte della mia pratica proprio alla visualizzazione di tutti i miei obiettivi, di tutto quello che vorrei raggiungere. Visto che questa cosa ha funzionato perfettamente da quando ho iniziato a farla e lo faccio chiaramente tutti i giorni con costanza, tutto quello che ho sempre desiderato è arrivato a me in qualche maniera. Non so se sono stata io, se è stato l'universo a mandarmelo, fatto sta che molti dei miei desideri si sono effettivamente avverati e quindi è una cosa che mi fa star bene e che porto avanti. Parliamo adesso delle app che uso io per meditare perché so che questi possono essere uno strumento utile anche per chi vuole iniziare. La prima app di cui vi parlo è Insight Timer che è un'applicazione gratuita anche se esiste la sua versione a pagamento. In ogni caso tranquilli perché quella gratuita è comunque fornitissima quindi io ho sempre utilizzato quella. È molto piena di contenuti sia in italiano che in inglese quindi anche da questo punto di vista non è sempre semplice trovare meditazioni in italiano. Ecco, questa applicazione ne ha davvero tante. L'applicazione ha principalmente tre funzioni. La prima è quella di trovare delle meditazioni che possono essere anche filtrate ad esempio per durata o per argomento. meditazioni guidate davvero molto utili. Pian piano poi conoscerete anche meglio i vari insegnanti e quindi potreste prediligere un certo tipo di meditazioni rispetto ad un'altra e procedere così giorno per giorno. La seconda funzione invece è quella dei podcast. Infatti all'interno dell'applicazione ci sono anche diversi podcast che trattano argomenti vari sempre relativi più o meno alla meditazione, alla mindfulness, allo stare meglio con se stessi. Anche queste hanno durate variabili e potete sceglierle in base all'argomento. Infine la terza funzione è quella del timer quindi poter impostare un timer per una meditazione libera. Quindi potrete scegliere la durata, addirittura dei rintocchi intermedi che scandiscano il tempo. Potete scegliere una musica di sottofondo se la volete. Quindi insomma molto completa. Questa è la prima applicazione che ho usato e l'ho usata per tanto tempo. La seconda applicazione che vi suggerisco ed è quella che uso al momento è Meditation. Questa applicazione è gratuita per il momento e credo sia gratuita per diversi mesi perché appunto c'era una promozione legata al fatto che siamo un po' tutti sempre in quarantena sommersi da queste zone arancioni e zone rosse quindi per incentivare la pratica a casa l'applicazione al momento è gratuita. Questa applicazione è leggermente diversa dall'altra nel senso che sì ci sono delle parti personalizzabili ma non completamente. È possibile scegliere sempre se si vuole una base di sottofondo oppure no è possibile chiaramente scegliere la durata ma non è possibile scegliere l'argomento nel senso che la voce guida può essere più o meno presente nella meditazione in base alla vostra scelta però appunto semplicemente si concentra sulla respirazione e sul rimanere connessi al momento presente. Io mi trovo molto bene con questa applicazione perché unisce un po' la meditazione libera a quella guidata è una via di mezzo perché da una parte lascia ampi spazi di silenzio dove si sente magari soltanto una musica di sottofondo e questo mi permette di concentrarmi su quello che voglio ma allo stesso tempo la voce ogni tanto mi ricorda di concentrarmi di rimanere focalizzata se la mente se n'è andata un po' per conto suo. In più un'altra funzione sempre che si può scegliere se metterla oppure no e io chiaramente ho messo di sì è quella di avere un insegnamento una piccola riflessione un piccolo discorso alla fine o all'inizio di ogni meditazione in questo modo io termino la mia pratica sempre con uno spunto di riflessione che poi mi porto durante tutta la giornata e secondo me è sempre molto interessante Parliamo invece adesso di come io effettivamente mediti tutti i giorni Allora io tendenzialmente medito dopo aver fatto yoga a meno che insomma quel giorno non abbia tempo per lo yoga allora medito in maniera autonoma però tendenzialmente dopo la pratica yoga mi piace tantissimo riposarmi meditando per l'appunto imposto il mio timer per 10 minuti e inoltre se c'è qualcuno in casa indosso le cuffie in modo da isolarmi ancora di più e non avere nessuna distrazione si può meditare in tantissimi modi nel senso che è possibile meditare da sdraiati seduti su una sedia seduti a terra a gambe incrociate tendenzialmente se si medita a terra come faccio io l'indicazione è quella di avere qualcosa che sostenga il bacino in modo che le gambe e le ginocchia siano più in basso del bacino appunto quindi avere un cuscino una coperta ripiegata su se stessa può essere sufficiente per avere la posizione giusta questo perché aiuta a mantenere la schiena eretta ed evitare che ci incurviamo senza accorgercene durante la meditazione su Netflix è anche presente una serie che parla proprio di meditazione io ancora non ho avuto modo di vederla ma vi lascio il link sotto nel caso foste interessati potrebbe essere un buon punto di partenza adesso che la mia pratica è diventata effettivamente quotidiana e mi sono resa conto quindi che questa è una cosa che mi piace fare che porterò sicuramente avanti nel tempo ho deciso di fare un piccolo investimento per avere qualcosa di un po' più professionale tra virgolette diciamo e quindi ho comprato il mio primo cuscino da meditazione questo l'ho trovato su Amazon quindi vi lascio il link sotto se siete interessati ha questa forma qui ma esiste anche rotondo io ho preso questo perché mi sembrava più comodo per appunto sedermi qui sopra e avere poi le ginocchia che cadono qui in avanti è rivestito con cotone biologico certificato all'interno c'è pula di farro anche questa biologica compostabile e ipoallergenica quindi è insomma uno strumento veramente perfetto per meditare e chiaramente questo tessuto che la ricopre può essere tolto e lavato bene ragazzi questo è quello che io faccio quando medito quello che come si è evoluta diciamo la mia pratica nel tempo e quali sono gli strumenti che utilizzo e che potrebbero tornare utili anche a voi in ogni caso se dovete ancora iniziare a meditare e state pensando se è il caso di imparare o meno io vi suggerisco di farlo perché è una pratica che porta tanto benessere e tanta felicità in più nella vostra vita perché vi accorgerete di quanto abbiamo bisogno anche di quei soli dieci minuti in cui siamo pienamente presenti nel qui e ora e siamo pienamente consapevoli del nostro corpo a volte quando siamo sopraffatti dalla nostra quotidianità ci dimentichiamo di vivere il momento presente la meditazione aiuta tanto ovviamente se avete domande scrivetemi qui sotto per qualsiasi commento mi fa sempre piacere parlare con voi e niente noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao grazie a tutti Grazie a tutti.